Bentornati, è appena finita la terza serata di Sanremo, mi sono riascoltato tutte e trenta le canzoni. Io ho voluto farlo dal vivo naturalmente, non su Spotify perché evidentemente in studio sono tutti bravi e dal vivo ci sono molti più problemi e sono molto più interessanti. In questo video vi dico quali secondo me sono le canzoni più belle, quali sono le più brutte e chi secondo me presumibilmente potrà vincere. Quando ho deciso di fare queste serie di video su Sanremo mi sono imposto l'obbligo dell'obiettività che io cerco peraltro di mantenere sempre nella mia vita professionale e personale e di non presumere quindi che solo perché sono musicista possa prendere un pezzo al primo ascolto. In genere è così, sono stati pochissimi casi in cui una canzone non mi diceva niente o addirittura mi lasciava abbastanza perplesso e poi col tempo è diventata una canzone che ho adorato. È successo, è successo ma veramente poche volte. Generalmente le musiche le prendo al primo ascolto. Ovviamente stiamo parlando di canzoni evidentemente, è chiaro che se parliamo di una sinfonia di Scriabin ci può volere anche un po' di più nel primo ascolto, ecco mettiamola così. Allora cosa mi hai ascoltato con queste trenta canzoni? Quindi non ho sentito capolavori, l'avevo già detto nel video scorso e ribadisco questa mia idea. Anzi vi dirò che quelle che erano le mie impressioni della prima serata si sono assolutamente confermate nella seconda e nella terza con un'unica eccezione che vi dirò tra un po' qual è. Avevo diviso, diciamo così, le canzoni in tre gruppi. Nel primo gruppo le canzoni che mi erano piaciute, nel secondo gruppo le canzoni gradevoli, così così e nel terzo gruppo le canzoni che non mi erano piaciute. Nel primo gruppo avevo messo le canzoni di Friare la Mannoia, di Rama, di Diodato e di Alfa anche se su quest'ultimo dovremmo fare un discorso a parte stante la gravità delle accuse che mi hanno colpito e di cui parleremo più avanti in questo video. Nel secondo gruppo c'è le canzoni che avevo trovato gradevoli pur senza essere nulla di straordinario erano, le devo leggere che non mi ricordo a memoria, quali di Neri Gramaro, di Anna Lisa, di Alessandro Amoroso, Ricchi e Poveri, Rain Ganeck, Dargen D'Amico, Maninni. In questo gruppo avevo messo al primo ascolto anche la canzone di Mr. Rain che invece ho rivalutato moltissimo e infatti ho messo nel primo gruppo. Nel terzo gruppo invece tutte le altre canzoni che francamente mi hanno lasciato abbastanza indifferente, un paio anche, devo dire, sono di rara bruttezza. Quindi dopo queste tre serate vi dico che confermo l'impressione che ho avuto dopo la prima, cioè di un festival con un livello compositivo delle canzoni abbastanza basso. Parlo della musica e solo della musica perché a me francamente le polemiche c'è da bar, i balli e le qua qua, e una certa ostentazione del dolore altrui, che francamente non mi interessano e le voglio proprio glissare e saltare a pie pari. Quindi qualità musicale, qualità extra musicale piuttosto bassa. E adesso voi mi direte, tu cercavi la qualità al Festival di Sanremo? E il punto non è questo, il punto è un altro. Uno di voi mi ha scritto che il Festival di Sanremo non lo guarda a prescindere. Beh, io a prescindere non faccio niente e non lo faccio a prescindere. Perché sono un uomo nel dubbio e perché voglio avere sempre la possibilità di cambiare idea sulle cose. Quindi non mi sentirete mai dire questa cosa non la faccio perché no. Non mi sembra, come dire, un approccio artisticamente sensato, proprio come concezione di quello che è la musica e di quella che forse è anche la vita. Ma adesso non stiamo qui a fare i filosofi di tardanotte, altrimenti poi finiamo a fare in marzullo la situazione. Però mi picco di essere una persona senza preconcetti, che quindi si è detta, anche se evidentemente non amo Sanremo, non amo quello che viene fatto né musicalmente né extra musicalmente, ha detto perché non guardarlo e non dargli un'altra possibilità di piacermi. E quindi l'ho fatto. Allora, questione della canzone di Alfa. Uno di voi, Fabio, che ringrazio, già nella giornata di ieri mi aveva segnalato che questa canzone assomigliava in maniera molto sospetta a una canzone dei One Republic dal titolo Run. Poi nella giornata di oggi, insomma, il web si è riempito di accuse, di plagio. Sono andato a clarmi questa canzone che, devo ammettere, non conoscevo. E ragazzi, siamo veramente ai limiti del plagio. Cioè, mettiamola così, se avessi scritto io la canzone di One Republic, intenterei immediatamente una causa per plagio, perché le due canzoni si assomigliano in maniera veramente, veramente imbarazzante. In più con un aggravante, che non solo la musica è molto, molto, molto simile, l'armonia è praticamente identica, ma hanno anche utilizzato un arrangiamento molto, molto simile alla chitarra uguale all'inizio, alle percussioni uguali e un uso del fischio, che insomma, il fischio non è proprio esattamente che le canzoni di pop si usi con grande frequenza, no? Ecco, e quindi usare il fischio diventa molto identificativo di una canzone e di un arrangiamento. Quindi se prendi una canzone che ha la linea melodica quasi uguale, gli accordi uguali, lo stesso arrangiamento e anche questo elemento identificativo e particolare come il fischio e lo porti nella tua canzone, abbiamo un problema. In più, non è che questa canzone è stata copiata, e ribadisco copiata, quindi non ispirata, ad un gruppo semi-sconosciuto della zona underground di Chicago, no, è stato copiato da un gruppo come One Republic, che su Spotify hanno 47 milioni di ascoltatori al mese e questa canzone è a mezzo miliardo di stream, quindi una canzone anche molto conosciuta. E quindi mi viene veramente da chiedere di chi è la colpa. Non credo del ragazzo, però quantomeno della casa discografica, che non poteva non conoscere questa situazione. E poi ripeto, le analogie fra due canzoni sono talmente tante che non è possibile, non stiamo parlando di una vaga somiglianza, stiamo parlando di due canzoni molto, molto, molto simili, in maniera che non può essere casuale. Cioè a tutti è capitato, e anche a me naturalmente, di scrivere un pezzo e poi rendersi conto che ci leviamo in testa e in realtà l'abbiamo preso da una musica di qualcun altro. Questa cosa succede a chiunque scriva musica, ma quando poi c'è la stessa enema melodica, gli stessi accordi, lo stesso arrangiamento, e allora capite che non può essere più un caso e capite perfettamente che non può che essere una scelta voluta e quindi fraudolenta. Anche perché comunque le regole del festival sull'originalità sono, dovrebbero essere molto stringenti. Poi potremmo anche discutere di chi queste canzoni le ha scelte perché non se ne è accorto, ma insomma, questo è. Per cui chi vincerà questo festival di Sanremo? Ma non lo so, ovviamente non sono un mago, però io credo che potrebbe vincere o Irama o Mr. Rain, che sono le due canzoni alla fin fine più particolari e forse anche più apprezzate dal pubblico giovane. Quali sono invece le più brutte? Quelle di Gali, secondo me, quelle di The Colors, canzoni di rara bruttezza, soprattutto questa qua è talmente brutta che probabilmente potrebbe anche avere molto successo. Allora, domani mi risparmio la serata cover, vedrò invece naturalmente la finale di sabato, e domenica alle 14. Ci vediamo per una live speciale Sanremo nella quale potrete dare libero sfogo a tutte le invettive e gli insulti che volete fare. Dopodiché, da settimana prossima, riprendiamo con i nostri video abituali, vi preannuncio che martedì avremo un video monografico, diciamo così, per ricordare i dieci anni della scomparsa di Claudio Abadio, per cui questo martedì 13. Bene, ora vi saluto, vado finalmente a dormire, ci vediamo nella live di domenica alle 14. non vi lascio, però prima di avervi ricordato di iscrivervi al canale, se non lo avete ancora fatto, di attivare la campanella, se è la prima volta che vi iscrivete, di lasciare un like e di commentare chi secondo voi vincerà questo festival di Sanremo, così poi nella live di domenica ci sarà uno script amanente e vedremo un posto per qualcuno di voi ci ha preso. Ci vediamo domenica.